carissimi pace buona giornata di benedica gloria al signore per questo nuovo giorno che ci concede grazie a dio per come si sta prendendo cura delle nostre vite vogliamo continuare a leggere le testimonianze del risveglio tratte dal libro di jonathan goffort per lo spirito mio abbiamo lasciato la volta scorsa jonathan goffort presiedere una riunione nella quale un uomo chiese con urgenza di poter confessare il proprio peccato proprio per il grave peso che sentiva sul suo cuore e che lo accusava davanti a dio spesso le riunioni tenute da jonathan goffort erano caratterizzate da quelle che lui definisce grandi ondate di preghiera che sembravano quasi travolgere l'assemblea presente qualcuno esclamava o pregate per la mia piccola missione siamo freddi e spenti ed erano solitamente responsabili di chiesa altri raccontavano che il padre la madre erano inconvertiti e supplicavano tutti ad unirsi a loro per intercedere per la salvezza dei loro cari a decine tra la platea rispondevano tanto che sembrava che nulla potesse rispondere a tale pressione divina e rispondevano nel senso che iniziavano ad elevare delle preghiere presso il trono della grazia del signore un certo numero di responsabili dei missionari cinesi quelli più influenti si erano poste alle riunioni avevano preventivamente dichiarato di non avere la minima intenzione di partecipare fu fatta proprio un'intercessione per loro e a come ricorda goffort alcuna alcune delle dichiarazioni più contrite di tutto il movimento furono proprio di questi uomini che toccati dallo spirito santo a seguito delle preghiere di intercessione cominciarono a ritornare sulle loro opinioni e a unirsi a quel movimento che tanto stava benedicendo quanti partecipavano durante quei giorni dice goffort o meglio scrive goffort tutti i tipi di dispute furono risolte e innumerevoli errori furono riparati sebbene molti riconoscessero i peccati più evidenti forse il peso della maggior parte delle persone correva lungo la linea dei doveri che erano stati trascurati la questione del giorno del signore la decima nella testimonianza agli altri il buon esempio la negligenza nel leggere la bibbia la preghiera per i cari e gli amici queste cose che erano state trascurate furono avvertite proprio sotto la spinta dello spirito santo come dei peccati davanti al signore è importante ricordare che anche le persone stranie entrate nella struttura per pura curiosità finivano spesso sulle loro ginocchia in pentimento in parecchi casi sembrava ci fosse una spinta irresistibile che li conduceva nella tenda a cercare il perdono dei loro peccati e a riconoscere cristo come salvatore c'era un giovane all'ospedale a cui erano state tagliate entrambe le gambe a causa di un incidente ferroviario dalla stanza del suo reparto era davvero improbabile che egli riuscisse a sentire la mia voce eppure durante una delle riunioni mentre il movimento sotto la tenda era al culmine egli fu compunto nel cuore e si pentì e si convertì al signore credo che quanto letto stamattina mi fermo infatti sia qualcosa che ci deve spingere a riflettere a riflettere in un modo particolare sui peccati di omissione che noi possiamo commettere abbiamo letto che quei credenti spinti dallo spirito di dio furono portati a riconoscere che trascurare il giorno del signore trascurare la propria preghiera in favore di quanti non sono salvati eccetera venne visto come un peccato perché tale agli occhi della santità di dio e alla luce della parola del signore e dobbiamo interrogarci e dobbiamo riguardare alla nostra vita per cercare di capire quante spine sono cresciute nei nostri cuori perché delle volte il seme dell'evangelo che porta frutto e che aveva iniziato a portare frutto improvvisamente diventa sterile incapace di darci quella vita esuberante quella vita prospera da un punto di vista spirituale di cui leggiamo nella parola di dio e delle volte pensiamo che questo sia qualcosa di inevitabile di normale e invece non lo è e se l'evangelo diventa sterile non è perché ha perso potenza ma semplicemente perché noi abbiamo permesso alla trascuratezza la negligenza alla indolenza di prendere il sopravvento nella nostra vita il risveglio anche questo anzi forse il risveglio inizia tra le altre cose proprio da questo oltre che dalla confessione del peccato e oltre che dalla ricerca impellente incessante della faccia di dio e vogliamo stamattina con tutto il cuore se abbiamo trascurato la nostra devozione verso il signore tornare sui nostri passi chiedere perdono a dio innanzitutto e poi dire signore aiutami aiutami a sprecare meno tempo e a impegnarlo sempre meglio per la tua gloria il che non significa semplicemente stare sulle proprie ginocchia o semplicemente aumentare il numero di culti che frequentiamo ma significa disporsi ad ascoltare la voce dello spirito che ci spingerà a servirlo secondo i talenti che egli ci ha dato e secondo i bisogni che ci sono nella comunità che frequentiamo e nei paesi dove viviamo lo spirito di dio soffia lo spirito di dio si muove lo spirito di dio si vuole servire di ognuno di noi fratelli sorelle quello che deve avvenire una maggiore disposizione da parte nostra e se noi permetteremo a dio di servirsi di noi vedremo gli stessi miracoli vedremo le stesse opere potenti perché dio non agisce secondo simpatie ma opera secondo giustizia e noi vogliamo dire signore questa mattina per la giustizia di cristo gesù opera in me e aiutami ad avere una vita che ti piaccia e che ti onori preghiamo per questo preghiamo per ogni altro bisogno dio ci onorerà che la pace del signore la sua grazia e la sua potenza sia con noi ancora oggi dio ci benedica grazie a tutti grazie a tutti